Buongiorno, sono Giuseppe Romani, presidente della Proloco di Badia Polesine. Siamo qui oggi in sala consigliare nel comune di Badia Polesine perché ormai da oltre 30 anni questo premio istituito dalla Proloco conferisce a due persone della nostra città che si sono distinte nella loro vita per l'impegno sociale, nella famiglia e in politica e in tutto quello che è l'aspetto della comunità. Oggi daremo questo riconoscimento a due concittadini, a Ione detta Ines Bosco e a Guido Chiaregato. Ione è di Salvaterra, si occupa da una vita della chiesa parrocchiale, si occupa del gruppo dei giovani di Salvaterra, mentre Guido Chiaregato è stato per anni impegnato nella Proloco e nel sociale qui a Badia Polesine. Grazie.